Hola, 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 buongiorno Cancro, buongiorno e benvenuti alla vostra stesa che comincerà un po' con le energie generali e poi passeremo all'amore per vedere che cosa sta accadendo esattamente al vostro segno. Ovviamente però non dimenticate quando avete finito di guardare questa stesa, non dimenticate di andare a vedere anche quelle del vostro segno ascendente e del vostro segno di luna perché ci sono sempre delle informazioni aggiuntive molto interessanti che qui non si trovano. Quindi cominciamo e vediamo innanzitutto cosa sta accadendo un po' in generale con destino, dolce amaro, rifiuto, amicizia, regina, vita, pazienza, stanchezza e ansia. Ok ragazzi, ok. Una fase un po' delicata questa in cui sembra che le amicizie abbiano un ruolo molto importanti. In particolare una amicizia ha un ruolo molto importante, si tratta di una persona con una forte energia femminile, quindi si tratta di... scusate piccola interruzione, dunque una forte energia femminile non vuol dire necessariamente una donna, potrebbe anche essere un uomo che sta mettendo in atto nei vostri confronti un atteggiamento molto comprensivo, molto sensibile e in effetti è uscita proprio la carta della regina che corrisponde al nostro mazzo di tarocchi all'imperatrice e quindi colei che ama e che si prende cura degli altri. Dunque lasciate che questa persona si prenda in effetti cura di voi perché sembra davvero che vi possa dare una mano. Potrebbe proprio trattarsi di un aiuto importante al momento, magari che arrivi da una persona che realmente è importante per voi e che realmente ha un ruolo nella vostra vita da tanto tempo, oppure potrebbe trattarsi anche di un aiuto che arriva al momento, sul momento. Questa è una cosa tipica per esempio di quelle che vengono definite anime compagne. Sapete che al giorno d'oggi c'è questa moda del fare distinzioni fra anime gemelle, fiamme gemelle, anime compagne, anime karmiche, una roba che a me non piace tantissimo ma che comunque ci aiuta a comprendere quali sono i ruoli che le persone possono avere nella nostra vita ed essendo noi occidentali abbiamo bisogno di schematizzare tutto, vabbè ci può pure stare. In realtà però non esistono delle classificazioni nette nel mondo spirituale, esistono solamente diverse gradazioni di somiglianza e affinità fra anime, ovvero diverse gradazioni di affinità fra le frequenze con cui questi corpi energetici vibrano. In questo caso potremmo parlare di quelle che vengono definite per esempio anime compagne. A volte noi incontriamo nella nostra vita delle persone che magari non rimangono tanto nella nostra vita, rimangono poco, rimangono quel periodo in cui noi ne abbiamo bisogno, dopodiché scompaiono, dopodiché magari per anni e anni e anni non le rivediamo più. Ecco, in questo caso potrebbe trattarsi o di un'anima compagna che sta appunto nella nostra vita per un determinato periodo di tempo, giusto il tempo che ci serve per aiutarci e poi andar via, oppure potrebbe trattarsi di una di quelle che invece vengono più definite anime gemelle, che sono anime con cui noi intratteniamo delle relazioni molto forti per quasi tutta la durata della nostra vita, quindi anime con cui continuiamo ad avere dei rapporti per molto tempo e che rappresentano le persone a noi più vicine, potrebbero essere appunto parenti, partner, amicizie, conoscenze comunque molto intime, molto durature. Ad ogni modo lasciamo che questa persona faccia qualcosa per noi, lasciamo che ci aiuti. Soprattutto perché stiamo state voi, Cancro, affrontando una fase un po' dolce e amara. Quando esce questa carta c'è sempre quella cantante che esce, che mi viene in mente. Una fase dolce e amara che è un po' come dire agrodolce, in cui accadono degli eventi che da un lato ci danno delle sensazioni positive, ma dall'altro lato non sappiamo molto bene come gestire perché comunque sentiamo una contrapposizione di emozioni dentro di noi. Qui stiamo parlando di emozioni come per esempio il sentirsi rifiutati, il sentirsi messi di lato da qualcuno. Forse siamo stati messi di lato da qualcuno, forse ci sentiamo rifiutati da qualcuno o da qualcosa, forse c'è qualche situazione della quale noi vorremmo far parte nella quale invece non riusciamo a inserirci, non riusciamo a entrare ed ecco che ci sentiamo esclusi da qualcosa. Può essere un'esclusione causata proprio da persone e dalla volontà di persone oppure può essere un'esclusione causata semplicemente dai fatti, da come vanno le cose. Ed ecco che questo potrebbe averci causato magari un po' di stress, un po' di stanchezza, un po' di ansia, magari il pericolo di non riuscire mai ad avere quel qualcosa o di perdere quel qualcosa che abbiamo. In realtà le carte qui ci consigliano solamente di avere pazienza, pazienza e rimanere comunque calmi, rimanere anche fermi. Ecco, star fermi non è semplice, star fermi è un'arte, possiamo dire, perché anche star fermi nel modo giusto è un qualcosa che si può imparare, così come per qualcuno invece è una dote naturale. Molte persone stanno ferme e impazziscono. Ecco, no, quello che bisogna imparare è che quando ci sono delle pause, dei momenti di pausa o di blocco in certe situazioni, va anche bene fermarsi ma farlo con calma, con serenità, farlo analizzando, approfittando di questo tempo che abbiamo a disposizione per guardarci intorno, per capire che cosa la situazione vuole dirci, cosa vuole trasmetterci e insegnarci o semplicemente per lasciare appunto che qualcuno ci dia una mano e vedere che cosa accade. Quello che vi sta succedendo, tra l'altro essendoci la carta del destino, era un po' predestinato, era un po' un qualcosa che vi toccava, dunque lasciate semplicemente che accadano le cose e giocate con le emozioni, imparate a giocarci e imparate anche a parlarne con qualcun altro, in modo tale da avere un punto di vista diverso, in modo tale da poterle elaborare certe emozioni in modo diverso e coglierne maggiormente gli aspetti positivi piuttosto che quelli negativi. Quando ci focalizziamo troppo sugli aspetti negativi non è mai un bene, è un segno di incapacità, è un segno di immaturità, è il nostro bambino o la nostra bambina interiore che entra in gioco, non è l'adulto che sta giocando. Uh che rumore, non so se lo sentite, ma, ma, non essendo nulla casuale durante una lettura, ecco che questo rumore sta sancendo qualcosa di importante. Ecco, magari sta sottolineando proprio qualcosa che ho appena detto di importante. Nel frattempo passiamo alla seconda parte della nostra stesa e vediamo cosa sta accadendo per voi in amore in questo momento. Abbiamo una carta rovesciata. Uh, ma perché vi spingete così tanto al limite? Perché vi state spingendo così tanto al limite? Dunque, picardia, bella questa carta, perché sono carte scritte in spagnolo, picardia, flirteo e de déjelo estar. Ahi, déjelo estar. E allora ragazzi, se ci sentiamo messi di lato e rifiutati da qualcuno, lasciamo che questa cosa accada senza prendercela troppo a male, perché non possiamo far nulla per impedirlo. Mamma mia, c'è il rumore di fondo, io non so se lo sentite, ma per me è fortissimo, quindi un messaggio forte. Musica Musica Dunque, cosa dicono queste carte? Se siete single, in effetti sembra che non riusciate a farvi accettare in una certa situazione, o che ci sia qualcuno che magari vi interessa, ma che non è interessato a voi nello stesso modo, non ricambia nello stesso modo. Se siete in coppia, si tratta invece di avere un po' di pazienza in questo momento con il vostro partner, perché ha bisogno di un po' di spazio, ha bisogno di un po' di pace e di serenità. Ora, attenzione perché c'è anche un'altra opzione, e cioè c'è qualcuno di voi che sta flirtando con qualcuno, ma sta flirtando con una persona che non è proprio la più adatta. Quindi, soprattutto se siete in coppia, evitate magari di flirtare con qualcun altro e di fare stupidaggini. Cioè, riflettete, riflettete su quello che state facendo. Cioè, in ogni caso, al di là che voi siete in coppia, al di là del fatto che voi siate single, c'è una situazione in cui bisognerebbe lasciar stare delle cose lì dove sono e non toccarle, invece di andarle a punzecchiare, invece di andarli a insistere, o comunque cercare di stimolare un qualcosa. Certo è che qualcuno di voi si sta divertendo, questo è chiaro. Vi state divertendo e attenzione a non far male a nessuno, io direi anche. Perché finché vi state divertendo con una persona che è consapevole di ciò che volete davvero, va bene. Ma se vi divertite mentre qualcun altro prende troppo sul serio e dà troppo importanza a certe cose, ecco che il rapporto diventa sbilanciato. Non volete la stessa cosa? Uno dei due rischia di farsi male, uno dei due rischia di rimanerci male. E quindi ecco che vi dico, attenzione perché potreste essere voi quelli che magari danno troppa importanza a un qualcosa o a un qualcuno che invece non dà a voi la stessa importanza oppure potrebbe essere l'altra persona a farlo con voi. Quindi attenzione, attenzione. Per chi è in coppia invece vi voglio dire proprio questo, che va bene ridere, va bene scherzare su certe cose ma è meglio sapere dove fermarsi e quando fermarsi. E soprattutto se sentite per esempio che il vostro partner ha bisogno di un po' di spazio, dateglielo, dateglielo tranquillamente. Se invece voi siete in coppia ma state flirtando con qualcun altro e state scherzando troppo con qualcun altro, attenzione al vostro gioco, attenzione a quello che state facendo. cercate di essere consapevoli, ecco. Ovviamente non vi dico non fatelo perché dipende da situazione a situazione. Cercate solamente di essere consapevoli di quello che state facendo. Però sì, c'è voglia di divertirsi, c'è voglia di giocare, c'è voglia di scambiarsi energia, quindi... La cosa importante è non andare oltre e non insistere su qualcosa che invece sembra a un certo punto volersi fermare. Quella è la cosa importante. C'è sicuramente una situazione in cui voi con una determinata persona state un po' negoziando, negoziando nel senso del gioco, nel senso dello scherzo. C'è questa energia nell'aria e questo genere di atteggiamento, questo genere di gioco vi sta avvicinando, sta creando una sorta di unione, complicità che va gestita, sicuramente va gestita. Ma attenzione allo stesso tempo, attenzione a una persona in particolare che potrebbe essere un po' strana, che vi circonda, che fa parte della vostra vita o della vita dell'altra persona, perché questa persona potrebbe essere invidiosa, potrebbe comunque essere un po' gelosa, potrebbe essere una persona che in questo momento magari si sente particolarmente sola e quindi non riesce a gestire bene, a elaborare bene questa solitudine e può appunto provare magari invidia o gelosia per chi invece riesce a socializzare in un modo diverso. Quindi attenzione, semplicemente, non credo che ci siano dei reali pericoli, ma semplicemente tenete un po' d'occhio. Se notate che c'è qualcuno un po' strano intorno a voi, tenetelo d'occhio. Potreste accorgervi, per esempio, potreste capire di chi si tratta proprio perché è una persona che non riesce in questo momento della sua vita a intrattenere dei rapporti sociali sani ed equilibrati. Magari è proprio una persona per i fatti suoi, una persona che è molto libera, in tutti i sensi molto libera. Ad ogni modo, non pensate troppo, non fate l'errore di star lì troppo a pensare, piuttosto ascoltate un po' il vostro intuito, il vostro istinto, perché se andate troppo di mente quello che succede è che rischiate di non arrivare da nessuna parte con i vostri pensieri, rischiate di spingervi un po' troppo al limite e di ostacolare un processo di rigenerazione che invece dovrebbe già essere in atto per voi, ma sembra un po' bloccato. Vedete la carta della rigenerazione? E qua parlo di una rigenerazione nell'ambito proprio amoroso, sentimentale. Voi dovete un po' lasciare andare delle cose, cose che vi hanno caratterizzato nel passato o nelle relazioni passate. Anche se siete in coppia, per esempio, dovete un po' rinnovare certe dinamiche che ci sono in atto con il vostro partner, ma state pensando troppo, qualcuno sta pensando troppo e quindi non riuscite a farlo, non riuscite a portare avanti questo processo. rimane un po' bloccato, ma rischiate di andare troppo oltre, rischiate di spingervi troppo al limite su questa cosa, quando invece potreste semplicemente sciogliere prima dei nodi, lasciare andare prima delle energie un po' cristallizzate, un po' bloccate. Quindi consiglio semplicissimo è proprio questo, di non pensare troppo, ma piuttosto ascoltarvi. Ascoltate il vostro corpo, la vostra pancia, è lì poi uno dei centri più importanti delle emozioni. Ascoltate l'intuito, l'intuizione, sicuramente tutto questo. Ma adesso, prima di concludere, vediamo un po' che cosa hanno da suggerirci. Ok, sono già cadute due carte, ragazzi, intanto io ovviamente, come sempre, vi ricordo che se volete una consulenza privata, un pacchetto, una sessione singola, potete tranquillamente prenotare dal sito, a meno che non vogliate la sessione di tarologia da 50 euro, che non è ancora presente sul sito. Oppure anche, per la pulizia energetica, anche quella non è ancora prenotabile da sito. Però, per tagliare la testa al toro, mandatemi un whatsapp, io e i miei collaboratori vi spiegheremo quali sono le vostre opzioni e come procedere. Sette di acqua, cinque di terra. Quindi, c'è una decisione da prendere, ecco, e c'è anche una certa difficoltà nel prendere questa decisione perché non abbiamo tutte le informazioni che ci servono. Non abbiamo tutte le informazioni a nostra disposizione. Allo stesso tempo, stiamo pensando tanto e stiamo prendendo tempo, stiamo procrastinando e invece dovremo proprio cambiare modo di pensare, cambiare modo di fare e non perdere più tempo. Ci sono, tra l'altro, nel frattempo, delle paure legate all'aspetto economico. Qui dovete semplicemente essere un po' più saggi, qui dovete magari chiedere consiglio a qualcuno perché se sentite che la vostra vita in questo momento sta affrontando una fase di incertezza, sicuramente ci sarà qualcuno che potrà darvi dei consigli e potrà farvi vedere le cose sotto un'altra luce. Questo potrebbe davvero esservi molto utile. Quindi, chiedete, non abbiate paura di chiedere informazioni, consigli, i pareri. Nel frattempo, appunto, raccogliete le informazioni che vi servono per prendere la vostra decisione in qualsiasi ambito della vita sia questa decisione. E con questo, ragazzi, io come sempre vi saluto, ma vi invito anche ad andare a vedere Ascendente e Luna, non lo dimenticate. E se volete, contattatemi e ci sentiremo in privato. Un abbraccio, un saluto alla prossima Ciao!